Buona giornata amici da Massimo Foghetti. Oggi è lunedì 17 gennaio 2022 e iniziamo una nuova settimana insieme con la rassegna stampa mattutina. Che cosa diciamo all'inizio? Diciamo subito che oggi il sole sorge alle 7.37 e tramonta alle 16.59 e vediamo chi festeggiamo oggi perché oggi è un santo molto molto venerato anche nel nostro territorio, Sant'Antonio Abate. Sant'Antonio Abate è il santo di chi lavora ai campi ma anche di altri e di altre persone che svolgono tante altre attività. Sant'Antonio Abate nacque in Egitto a Eraclea nel 251. Impressionato dalle parole del Vangelo diede tutte le sue sostanze ai poveri e si ritirò nel deserto dove fece continue penitenze e visse santamente. Morì all'età di 105 anni. È il protettore di che è stato contagiato dall'erpex soster, ovvero il fuoco di Sant'Antonio, ed è invocato contro la peste, quindi contro le malattie infettive. Chissà che non ci dia un aiuto anche contro il Covid. Ed è il santo di chi coltiva la terra e soprattutto alleva animali. È protettore anche dei guantai, dei tessitori, dei tosatori, dei macellai, dei salumieri, dei archibugieri e anche dei becchini e dei panai. Insomma una vasta pletora di persone che si affidano a Sant'Antonio. E Sant'Antonio è il santo soprattutto del Porcello perché lo vediamo sempre raffigurato con il maialino accanto ma anche con altri animali alle sue spalle. E infatti in questo in questo periodo generalmente quando i tempi erano normali si effettuava la benedizione degli animali. Quest'anno non abbiamo notizie di questo evento ma chissà che qualcuno non lo faccia e non lo organizzi. E veniamo anche alle previsioni del tempo. Vediamo un tempo abbastanza solleggiato quindi continua l'alta pressione nel nostro territorio. Il tempo è stabile con cieli in prevalenza sereni o al più parzialmente nuvolosi sulle coste adriatiche. le temperature sono in lieve calo e il vento spira debole da sud ovest. Ed ora veramente diamo un'occhiata alle notizie dei giornali a partire dal resto del Carlino questa mattina. Vediamo che l'apertura è dedicata alle dichiarazioni del sindaco Matteo Ricci, il sindaco di Pesaro, per quanto riguarda un evento molto molto atteso, molto molto desiderato dalle nostre popolazioni, ovvero l'arretramento della ferrovia dalla linea di costa a un po' sull'entroterra insomma. E qui vediamo subito il titolo. Per la nuova ferrovia serve un miliardo di lire, una cifra veramente importante, astronomica, ma che è contemplata nel bilancio delle ferrovie pensate. Ricci è il sogno della stazione d'avanguardia. RFI infatti ha elaborato un piano di fattibilità perché vanno superati due snodi che rallentano i treni. Sono rallentamenti di 4-5 minuti, ma sono molto importanti per le ferrovie. I soldi sono già nel bilancio 2022. Spostare di 4 chilometri la ferrovia verso Villa Fastigi sembra fantascienza, ma ora sembra che questa fantascienza sia più scienza che fanta. Insomma le ferrovie ci pensano seriamente. Prima di entrare a Pesaro ci sono due snodi che rallentano di 4-5 minuti la marcia dei convogli. Un ritardo di marcia elevatissimo che oggi non può più permettersi le ferrovie. Poi ce ne sono altri quattro tra l'Emilia Romagna, l'Abruzzo Molise e la Puglia. E così fin d'ora c'è un miliardo di euro per ogni strettoia da superare e Pesaro rientra tra queste. Però se Pesaro rientra tra queste Fano non può stare alla finestra. E infatti vediamo a fondo pagina una dichiarazione del sindaco di Fano, Massimo Seri, che vuole anche lui salire sul treno. Vuole un progetto comune. Il primo cittadino di Fano rivendica la sinergia con un percorso unitario e con vogli più veloci. Insomma Fano non può stare veramente alla finestra estrettamente collegato con Pesaro, ma poi vediamo che anche altri sindaci si sono mossi dietro appunto le dichiarazioni di Ricci perché insomma tutta la costa soffre veramente della presenza della ferrovia a pochi metri del mare. Pensate come potrebbe essere valorizzata la costa se la ferrovia fosse arretrata. Diamo ora voce alle altre notizie e vediamo un dramma che si è svolto nella giornata di ieri. Si tratta di un lutto, di un incidente stradale. L'auto salta la rotatoria a forte velocità. L'ultima notte di Cristian aveva 37 anni. Cristian Fiocca, camionista, giovane padre pesarese, che ieri mattina alle 4.40 è deceduto in seguito ad un incidente avvenuto sulla Montelabattese alla rotatoria appunto di Montelabate. Un incidente che è stato ritratto, è stato evidenziato dalle videocamere. Un video girato dalla telecamera fissa riprende infatti la vettura che non prende il rondò e quindi si schianta contro il guardrail. In seguito a questo dramma tantissimi post di solidarietà alla famiglia sono stati inviati attraverso il web e qui vediamo appunto la vittima, Cristian Fiocca, di questo incidente. Quei dolori lancinanti dopo i morsi del ragno. Vi ricordate come sui giornali apparve per diverso tempo il problema del ragno violino? Un ragno violino che determinò anche molte paure, molte fobie sul nostro territorio. Ebbene queste fobie però ebbero ragione di essere lamentate per il dramma suscitato nei confronti di Cristina Calzoni, una donna di 46 anni che è stata morsa due volte dal ragno violino e deceduta. La tragedia si è consumata venerdì sera a Gabicce dove Cristina e il suo compagno Gilberto Del Chiereco vivevano insieme. Una coppia molto conosciuta anche nella nostra provincia. Nel 2021 la 46N era stata morsa per due volte a settembre e a novembre da un ragno violino. Quindi un ragno molto molto pericoloso e i sanitari del 118 pensano che abbia abusato degli antidolorifici. Ecco a causa delle conseguenze di quei morsi appunto la donna è deceduta. E poi vediamo l'ordine pubblico. Ladri acrobati rubano gli integratori e poi il cashmere. Si tratta di due furti che sono stati compiuti da una banda di ladri in due episodi strettamente collegati. Infatti sono entrati alla Doblup una palestra e dalla Ommi una ditta di abbigliamento. Si sono aiutati con una corda per saltare da un luogo all'altro. Nella palestra hanno forzato una porta esterna. Non è chiaro poi se la palestra avesse un sistema d'allarme che comunque non ha suonato. E una volta dentro hanno rubato felpe e integratori alimentari per un valore di 300 euro. E poi sono andati nel negozio di abbigliamento che è lì accanto, Ommi, dove a un certo punto in piena notte suona anche l'allarme. Ma qui i ladri hanno agito con particolare destrezza e velocità. Hanno portato via capi di abbigliamento in Kashmir per un valore di circa 1000 euro. Poi sono fuggiti e ovviamente quando poi sono arrivate le forze dell'ordine non c'era più nessuno. Lo screening scova 29 studenti positivi e siamo sul tema della sanità. E qualche papà si fa anche il tampone tranquillità per vedere se è risultato anche lui infetto. Codma di Fano. Ieri 316 test ai ragazzi delle superiori. Si infilano anche alcuni genitori di figli con sintomi sospetti. Tutto però fila liscio e senza code. E lo assicura Augusto Liverani che è il responsabile del Dipartimento Sanità pubblica e Prevenzione e Malattie Infettive dell'area Vasta 1. Augusto Liverani ha dichiarato al solito un campione di persone che presentava una situazione di rischio dei contatti. Ha gestito l'accesso anche la protezione civile che ha assistito tutti i presenti per la compilazione dei moduli. E poi vediamo ancora sul resto del Carlino l'assalto al Catria ieri dove molta gente si è recata a sciare. Però ci sono state proteste e confusione. C'è anche un nonnino volante, un nonnino volante che ha 90 anni, che non ha resistito a provocare l'ebrezza di una discesa. E qui lo vediamo in una fotografia. Si tratta del novantenne Gianfranco Ceccarelli. Ma che cosa è accaduto ieri sul Catria? Si sono verificate lunghe code e sono state elevate anche delle proteste sin dal mattino con oltre 3.000 accessi nell'ultimo weekend. Tra loro appunto persino uno sciatore novantenne. Non solo file ma anche proteste per ritardi nell'arrivare sulle piste. Infatti ieri sul Catria, poco dopo le 18, si sono vissuti anche 20 lunghi minuti di pathos per il blocco della cabinovia con circa 100 persone intrappolate in aria. Ebbè stare 20 minuti fermi in aria con un clima non certo ideale, non è agevole. Colpa di una scheda elettronica che si è bruciata bloccando l'impianto. E mentre gli addetti montavano una nuova scheda, tantissima gente ha chiamato anche i carabinieri. Per quanto riguarda Urbino, l'assessore Foschi afferma che va riaperto il Covid Center di Civita 9 e lo ha detto incontrando l'associazione Urbino Capoluogo, con la quale ha voluto fare il punto su come il territorio e le strutture sanitarie, stiano affrontando l'attuale fase pandemica. Urbino ha bisogno appunto di un dirottamento appunto degli positivi a Civita 9. A Fano Gimarra serve una strada. La questione della variante di Gimarra ha suscitato molte proteste, tant'è che un comitato, lo vediamo poi anche dopo sulle Corriere Adriatico, insiste sulle azioni per cercare di arrestare il progetto di questa variante, ma c'è invece chi lo desidera. In questo caso è un residente storico. Si tratta di Gianfranco Tinti, 71enne fanese doc, abitante di Gimarra. A Fano Alta serve una strada. Subirà senz'altro un incremento di residenti, perché ci saranno nuovi appartamenti e se altrimenti Gimarra rimane una trappola. È la protesta di un residente in risposta ai contrari alla variante. Quando i nuovi appartamenti saranno finiti, ha detto, i problemi si moltiplicheranno. Qui la domenica è già pieno di macchine e non c'è ancora un appartamento finito. Se non fanno subito una strada, come nel progetto Piccinato, ora che c'è anche un nuovo proprietario per i ruderi di Fano Alta, dice così Tinti, non si uscirà più da lì. Si sarà insomma un labirinto e Gimarra rimarrà incastrata nelle sue vie. Un nuovo modello di welfare lo evidenzia l'assessore ai servizi sociali, Dimitri Tinti, che ha dato via agli incontri con i territori per fare questo nuovo progetto. Ed ora diamo un'occhiata al Corriere Adriatico, a partire dalla pagina di Fano, dove si parla soprattutto di parcheggi. Parcheggio, ma quanto mi costi? È un articolo che riguarda i parcheggi a pagamento. Sempre più posteggi a pagamento dal centro a 1,20 euro all'ora fino a 0,80 centesimi in zona Viale Buozzi. Ovviamente costano di più quelli più appetibili, quelli che sono dentro la città murata, un pochino di meno quelli che via via ci si allontana dal centro verso la periferia. Parcheggio, quanto mi costi? Per chi risiede in periferia o nelle frazioni dell'entroterra e deve recarsi in centro per lavoro? Ebbene, il parcheggio a pagamento costituisce un onere che si aggiunge un po' a tutti gli altri oneri che hanno configurato l'inizio di questo 2022. Ovvero l'onere del trasporto, è cresciuta la benzina, è cresciuto il metano, l'onere delle bollette, le bollette della luce, le bollette del gas, i costi della vita, il costo dei prodotti, perché poi anche i prodotti dagli alimentari, specialmente i cibi di prima necessità, sono aumentati. È aumentato il grano, è aumentata la pasta, la farina, insomma beni che sono essenziali. Ebbene anche il parcheggio, il costo del parcheggio contribuisce ad elevare le difficoltà di quelle famiglie che si trovano in condizioni economiche precarie. E qui vediamo una tabella pubblicata appunto dal Corriere Adriatico per quanto riguarda il costo di vari parcheggi. Parcheggi a 1,20 euro all'ora, parcheggi a 1,10, parcheggi a 1 euro e parcheggi a 0,80 centesimi. Poi abbiamo anche i parcheggi stagionali, quelli del Lido e della Sassonia, che però a settembre vengono eliminati e quindi torna la sosta libera. Variante Gimarra, un nuovo ricorso. Corte dei Conti, chi ha votato trema. L'ex Assessore Benini, se sarà accolto questa segnalazione alla Corte dei Conti, c'è chi sarà tenuto a pagare il danno di tasca propria, perché appunto il Comitato contro la variante di Gimarra ipotizza una distrazione di fondi pubblici, in quanto i 20 milioni che sono stati destinati dalla Regione al Comune di Fano erano finalizzati a collegare la città al nuovo ospedale unico di Muraglia. Ma siccome l'ospedale unico di Muraglia non si fa più, ecco appunto che questo impiego, questo investimento insomma rimane illegittimo, rimane improprio secondo il Comitato. Dialogo con Marche Multiservizi, appello delle liste civiche. Marche Multiservizi Aset, un contrasto che ormai si propaga da diverso tempo, però in realtà le liste civiche dicono guardate che con Marche Multiservizi dovremmo fare i conti, perché tra poco nel 2028 si profila il bando per l'assegnazione del servizio idrico e se non siamo uniti probabilmente questo servizio finirà in altre mani estranei al nostro territorio e quindi il civismo non fa altro che esortare appunto le forze politiche a trovare una conciliazione con l'azienda pesarese. Sulla Valcisano si parla Pergola, il liceo Torelli che ha due novità e in questi giorni tutte le scuole fanno degli open day per evidenziare le loro peculiarità, i loro servizi, i loro indirizzi di studio e il liceo Torelli appunto presenta le sue novità. La scuola pergolese si apre agli studenti sabato prossimo e la referente per l'orientamento in entrata Elena Ferretti dice più inglese e più ambiente. Copertura telescopica, piscina da 900 mila euro. Si tratta di una notizia che riguarda terre roveresche dove la classificazione edifici a energia quasi zero a Pievecannetti di Orciano si riferisce ad un progetto appunto che ammonta 900 mila euro. Si tratta di un centro sportivo in località Pievecannetti nel municipio di Orciano. E poi vediamo anche Senigallia dove si parla di una notizia di cronaca. Sorpreso a spacciare nel posteggio un giovane è stato denunciato dai carabinieri che hanno notato un'auto in sosta e quindi hanno fatto delle verifiche e hanno trovato un pacchetto sospetto buttato appunto dagli occupanti di questa auto che si erano accorti insomma che erano spiati dai carabinieri e tentavano appunto la fuga e quindi hanno sorpreso un giovane che è stato poi denunciato. L'auto era nel parco del centro commerciale e ha insospettito i militari. Segnalati anche due clienti alla prefettura. Lo screening fa scoprire nove allunni positivi, sempre a Senigallia, una task force per verificare green pass e mascherine e sono scattate sei sanzioni. Attenzione dunque perché i controlli vengono sempre fatti con regolarità. Sul Corriere Adriatico abbiamo la solita pagina ormai mancabile tutti i giorni per quanto riguarda la situazione sanitaria della nostra regione. Nell'esercito dei positivi senza sintomi 9 su 10. Attenzione quindi perché questi possono propagare il virus e non avvertono sintomi della malattia. Allo studio sono nuove norme. Entro due settimane il governo potrebbe distinguere tra malati e positivi. Da giovedì in vigore il green pass per i clienti di parrucchieri ed estetiste. E dovremmo fare come negli Stati Uniti. Positivi asintomatici dentro casa per cinque giorni e poi mascherina FFP2. Lo dice il virologo Clementi, Massimo Clementi. Con Omicron funziona così. Delta è quasi scomparsa. Una variante che destava preoccupazioni ma una variante che ora non c'è quasi più. Poi due pagine dedicate dal Corriere Adriatico alla questione delle ferrovie che è stata sollevata appunto dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci. In una città una green line al posto della ferrovia è sottomonte liberata. È un progetto fantascientifico ma che potrebbe realizzarsi. Il progetto dell'arretramento dei binari apre nuovi scenari ma la partita è complessa. E qui vediamo in questa sequenza fotografica il sindaco Matteo Ricci con alle spalle la mappa che ipotizza il nuovo tracciato delle ferrovie. E qui vediamo come potrebbero essere adattate le zone di risulta che potrebbero essere anche così trasformate in bellissime zone verdi e zone pedonali. Insomma un sogno che potrebbe anche verificarsi. E qua abbiamo due sindaci che vogliono accodarsi a questo progetto. Il sindaco di Fano Massimo Seri al lavoro insieme a Ricci. L'occasione è strepitosa ha detto il primo cittadino di Fano e per invece il primo cittadino di Mondolfo Nicola Barbieri serve una visione regionale. È un'idea condivisa da tutti. Il sindaco di Mondolfo chiede di essere coinvolto anche lui nel piano. Palace e piscina il doppio nodo che il Comune vuole sciogliere. Sono due strutture i cui lavori di ristrutturazione languono da diverso tempo. Ritardi e incertezze. Sono giorni nevralgici per tentare di uscire dall'impasse. Da una parte la piscina Facchini di Via Togliati per la quale il primo cittadino aveva inviato un ultimatum alla federazione Pentathlon e dall'altra invece il Palace di Via dei Partigiani. Anche qui un cantiere travagliato. Su questo punto Ricci ha ammesso che i lavori hanno subito ritardi puntando il dito in particolare sulla inaffidabilità di alcune componenti di alcuni soggetti che ci siamo trovati per strada, ha dichiarato appunto Ricci. L'adri acrobati in azione a Torraccia, raid e notturno in palestra e maglieria sono appunto i due furti di cui abbiamo parlato prima e poi ad Apecchio invece un serpentone interminabile di auto alla conquista della cima del Nerone. Quindi non solo il Catria ha attirato tanta gente nella giornata di ieri ma anche il Monte Nerone. A Monte Labate qui vediamo anche l'articolo che riguarda l'incidente stradale purtroppo mortale che si è verificato nella giornata di ieri. Giovane papà sbanda e muore schiantandosi contro il guardrail. L'incidente nella notte lungo la Monte Labattese ha perso la vita Cristian Fiocca di 34 anni ed ad Urbino ancora problemi per quanto riguarda la sanità pronti all'addio 10 medici del 118, già ce ne sono pochi e purtroppo ne saranno sempre più pochi. Giovanni Papi Renzetti che è il responsabile regionale del sindacato emergenza afferma che in area vasta uno ne sono rimasti solo 36. L'attacco è all'Azur e alla regione, un servizio fondamentale sul territorio e non si è voluto, ha detto il medico, migliorare il sistema. E poi si avvicina l'ora del giudizio nei confronti di Ambera, la ragazza che è stata implicata nel delitto che ha provocato la morte di Ismaele. È l'ora di Ambera, mercoledì la sentenza. Questo mercoledì nel tribunale di Urbino dalle 9 sono previste le repliche degli avvocati e la sentenza è messa nell'occasione dal giudice Massimo Di Patria e poi questo articolo riavvolge un po' il nastro di tutta la vicenda. Vediamo ora qualche notizia di sport. Oggi è lunedì ma il campionato ancora langue. Vediamo che per quanto riguarda la vis nella stagione vissina un taglio netto con il passato è seconda nel girone per produttività la squadra pesarese dei gol segnati. Ogni rete dei pesaresi frutta 1,35 punti. Meglio ha fatto solo il Cesena. E nel prossimo weekend ripartirà, dovrebbe almeno ripartire, il campionato di serie C. Il Covid ha colpito in varia misura tutte le società. Il girone B dopo le feste ha contato un centinaio di contagiati, in maggior parte nel frattempo negativizzati. I nuovi focolai al momento risultano piuttosto contenuti. E per quanto riguarda il Fano Calcio vediamo che Polcino incarico alla Juve Stabia ma sarà ancora vicino all'Alma. Il presidente russo ha già fatto sapere di non volersi privare del suo contributo. E non ci saranno stravolgimenti in seno all'Alma Juventus Fano dopo l'annuncio sabato scorso della Juve Stabia che milita in serie C che ha ufficializzato di aver affidato a Filippo Polcino l'incarico di amministratore unico della società giallo-blu. E vediamo anche cosa scrive il Corriere Adriatico per quanto riguarda lo sport. La visse guarda a sinistra. Surzi Puttini ci può stare. Faccia da sistemare dopo l'addio di Giraudo sul Tacuino. C'è Lex Ascoli e Fermana. E poi vediamo che per quanto riguarda invece il Fano Calcio, Fano Unito ci rilanceremo. Una carica di entusiasmo in più per affrontare nel modo dovuto il campionato. Antezza pensa alla ripresa. Le vicissitudini attraversate ci hanno fatto crescere di più. Ed era l'ultima notizia. Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani alle ore 7. Buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.